Benvenuti, siamo con Giulia Fascetti, candidata al Consiglio Comunale nella lista del Partito Democratico. Fascetti, lei è un'imprenditrice, come mai questa decisione di scendere in pista? Perché la città ha tantissimi problemi e io credo che in questo momento soprattutto anche i partiti debbano attingere dalla società civile, come nel mio caso che sono persone impegnatissime nel lavoro e che quindi sono consapevoli, toccano con mano tutti i giorni i problemi del lavoro, della ricostruzione, delle piccole imprese, dei lavoratori, della disoccupazione, del lavoro nero eccetera. Quindi mi sembrava una cosa bella per me e per la città. Sì, una sfida perché lei fra l'altro ha scelto in maniera un po' singolare di non aderire a una formazione civica ma da non iscritta al PD di entrare in una lista che comunque vede delle rendite di posizioni di natura politiche consolidate, quindi un percorso ancora più complesso. È una grande sfida perché naturalmente la lista del PD è una lista fatta da persone che, come dice lei, sono diciamo tra virgolette dei pezzi da 90, però innanzitutto a me piacciono le sfide altrimenti non potrei fare il lavoro che faccio. E poi ritengo che io credo nella sana politica, cioè io credo nel risanare la politica, non credo tanto nelle liste civiche. Le liste civiche hanno la loro ragione d'essere e bisogna rispettare tutti, io sono una persona fortemente democratica, però se voglio, ecco io penso che vorrei spendermi per risanare la politica. La politica ha dei problemi strutturalmente, almeno in Italia, quindi ne sentiamo tante. Però ecco, invece io voglio credere nei partiti, credo in questo partito, ma soprattutto credo che comunque non dobbiamo dimenticare che i partiti sono fatti da esseri umani. Quindi se noi riusciamo a, diciamo, se nei partiti riescono a contare un po' di più delle persone meritevoli, oneste, il partito è fatto da persone. Quindi è la persona che fa anche il partito, sono tutte le persone insieme che fanno un partito. Quindi credo più in una politica sana che non in un movimento, perché poi i movimenti, almeno guardando quelli del passato, non hanno avuto poi, poi alla fin fine sono tutti un po' andati a confluire, chi per un verso, chi per un altro, nei partiti. Quindi evidentemente strutturalmente non possiamo fare a meno dei partiti, però risaniamoli. Sì, quanto è difficile oggi all'Aquila essere imprenditrice e donna imprenditrice? È difficile, però guardi, io non lo so se sbaglio io, ma io non mi pongo nelle situazioni, io partecipo a gare pubbliche, eccetera. Le dico la verità, io vado avanti come Giulia Fascetti, come essere umano. Spesso dimentico di essere una donna, cioè evidentemente, allora, se non lo penso io, forse non lo pensano neanche i miei interlocutori, cioè la differenza di genere, io devo essere sincera, io non la sento. Ora, non lo so se non la sento perché è una mia convinzione di andare avanti come essere umano, in base alle mie capacità, al mio cervello, alla mia esperienza, oppure, non so, non la percepisco tanto, però mi rendo conto, però mi rendo conto che esiste. Ecco, questo è importante perché non si deve partire solo da un'ottica personale, altrimenti sarebbe una visione molto parziale. Mi rendo conto che esiste, però io, come imprenditrice, sinceramente, sarà perché ho un caratteraccio, ho una personalità abbastanza forte e magari anche ingombrante, quindi forse non la percepisco tanto, sì, però indubbiamente partecipo anche a delle riunioni con delle altre donne. Oddio, poi è un fatto oggettivo che le donne manchino, diciamo, nei posti chiave. Poi anche proprio nei posti chiave, vediamo per esempio, rimanendo nelle elezioni municipali, nelle municipalizzate, a capo di tutte queste aziende non ci sono donne, ecco, quindi oggettivamente il dato esiste. Sì, al di là di questa personalità forte, traspare dalle sue parole un certo senso di ottimismo, comunque di visione positiva del futuro. Lei pensa di poter portare questo ottimismo anche nel governo della città? Insomma, lei vede positivamente il destino dell'Aquila? Sì, io sono un inguaribile ottimista, però le dico anche una cosa, che all'Aquila la possibilità di cambiare e soprattutto di ricostruire il tessuto economico c'è, perché è normale che noi adesso siamo anche nel pieno di una crisi nazionale e mondiale, d'accordo, però l'Aquila potrebbe avere il vantaggio della ricostruzione, che non deve essere vista soltanto in modo passivo e dire, mi ricostruiscono casa, mi ricostruiscono, deve essere vista anche come un'economia di ritorno. Del resto, anch'io, come imprenditrice, ho avuto questa possibilità, cioè ho preso un treno, almeno per quanto riguarda una parte del mio lavoro. Quindi è normale che deve essere vista come un'opportunità di crescita e soprattutto di far sì che le imprese locali, piccole e medie, perché c'è un tessuto molto articolato di piccole e medie imprese, di micro imprese, è una grossa opportunità per noi. Certo, poi dipende da tante cose, insomma, dipende anche, voglio spendere solo una parola per quanto riguarda i soldi, che, siccome si leggono tutti i giorni annunci sui giornali, sulle vostre testate, di soldi, allora un milione per il sociale, un milione per le imprese, ecco, però lì o lì andrei a vedere come si fa la ripartizione di questi soldi. Io personalmente non sono d'accordo che questi soldi vengano messi, distribuiti, con dei bandi, cioè i bandi, per capirci, adesso, ecco, ho visto tante storture, perché non sono i bandi, cioè, se si pensa che ci sono dei soldi pubblici che arrivano per gli aiuti alle piccole e medie imprese, bene, o medie e grandi imprese, benissimo, però si devono dare alle imprese che hanno quei requisiti, metterli a bando, come per esempio sta facendo o ha fatto fino adesso anche la regione, sinceramente poi si rischia, anzi, più che si rischia abbiamo toccato con mano, che c'è una gestione corporativistica, a volte, osso dire, quasi massonica di quei soldi, ecco, io lì non sono molto d'accordo. Un'altra cosa che io vorrei che finalmente, di cui finalmente si parlasse, è il de minimis, cioè capire questi 90 milioni, perché, insomma, la zona franca è stata veramente un capitolo che non voglio neanche andare proprio a rispolverare, però, ecco, i 90 milioni e il de minimis come verranno, ma lo dobbiamo pensare subito, cioè, doveva essere fatto ieri, quindi siamo già in ritardo. Certo, è sicuramente una delle priorità. È una delle priorità, guardi, per me, io, il mio contributo, semmai io dovessi, per carità di Dio, col velere degli elettori, entrare in consiglio comunale o dovunque, per me la priorità di questa città è il lavoro, perché è vero che c'è la ricostruzione, abbiamo le nostre case, però il lavoro è la priorità, veramente, l'occupazione. Oltre al rilancio economico, secondo lei, quale dovrebbe essere uno dei primi argomenti che la nuova amministrazione dovrebbe prendere di petto, che dovrebbe affrontare immediatamente in maniera decisa? Guardi, l'Aquila, vedere, girare per l'Aquila, per le periferie, mi scusi, fatemi passare il termine, io le trovo brutte, le trovo pessime, quindi deve essere fatta una pianificazione a livello urbanistico, perché è un continuo fiorire di cavannoni industriali, e poi mi permetta anche un'altra cosa, io non sono per l'abusivismo, perché, guardi, io combatto tutti i giorni il lavoro nero, perché io sono un'imprenditrice etica, quindi sono per i contratti di lavoro nazionale, di categoria e quant'altro, nello stesso tempo però io combatto personalmente l'abusivismo. Quindi lei è per una regolamentazione anche della questione delle famigerate casette, cioè i manufatti provvisori? Poi è ovvio che dovranno essere regolamentati, anche perché se tutti questi manufatti sono stati costruiti per sostituire temporaneamente l'abitazione principale, si dovrà trovare una regola, ecco, guardi, la regola, che poi è una regola più o meno condivisa, e quindi si può andare a scontentare una parte e a contentare un'altra, però le regole, la società senza regole non ci può stare, del resto lo si vede nel lavoro, i morti sul lavoro sono continui e poi si viene a scoprire che erano in nero e ci sono, guardi, mi creda che è un continuo sentire di lavoro nero, quindi le regole per tutti, come le devo seguire io e mi sento di seguirle io come imprenditrice, le seguono pure gli altri, insomma, pur facendo delle scelte un pochino antipopolari, però ci vuole il coraggio. La ringrazio. Grazie.